Torna domenica 24 aprile, Foto Antiquaria, la mostra a mercato di attrezzature fotografiche organizzata dal fotoclub La Chimera di Arezzo. L'edizione è la numero 61 e il fotoclub lancia anche la mostra Arezzo Cent'anni in Foto, scorci e ricordi della storia retina negli scatti contenuti nella nuova edizione di un'ambita pubblicazione. Quest'anno abbiamo ripubblicato Arezzo Cent'anni in Foto facendo un grandissimo sforzo e l'abbiamo fatto perché abbiamo avuto tante richieste di questo libro. È un libro che risale dal 2016 ma l'abbiamo rinnovato, ci abbiamo messo più di 100 fotografie nuove per cui il libro ne comprende complessivamente 461 e la mostra che abbiamo esposto al fotoclub è la mostra delle 100 fotografie nuove. Quindi comprate questo libro, l'abbiamo fatto apposta, venite a vedere la mostra perché è molto interessante. E per la giornata di domenica in occasione di Foto Antiquaria anche un photoshoot. Diciamo una sala di posa all'aperto e quindi ecco speriamo che il tempo regga e che quindi sia una cosa diciamo fattibile perché abbiamo una bella modella che è la Giada che ci segue da diverso tempo e quindi ecco io auguro a tutti di venire qui e di divertirsi con la Foto Antiquaria. Diamo allora l'appuntamento, quando sarà possibile fare questo photoshoot? Il photoshoot è dunque diciamo dalle intorno alle 11 e quindi di mattina. Grazie. Grazie a tutti.